pronti per collegarci con il dottor marcello santoro che salutiamo nutrizionista biologo grazie di essere con noi buonasera allora eccoci qua la vediamo dal basso in alto noi ho dovuto cambiare lo strumento perché il collegamento col computer non era va bene va benissimo anche così l'importante il contenuto no poi alla fine insomma immaginano il loro perché volevo subito collegarmi perché abbiamo appena sentito il dottor di lorenzo protologo no che parlava di stitichezza e di cose varie una piccola pillola me la dà prima di una serie di domande che le devo fare quanto l'alimentazione può entrare in questo tipo di patologia diciamo che ha una sua rilevanza ci sono parecchie persone che hanno un'alimentazione scorretta nel senso che si assumono poche fibre e bevono poco e quindi questo non fa altro che rendere chiaramente le fesci un po più dure più più difficilmente sì esatto è difficile riuscire a poi a nel tempo quindi lei cosa consiglia per esempio a chi è stitico cosa le consiglia di mangiare per aiutarli assolutamente più fibre quindi verdure assolutamente a meno che non ci siano funzioni patologiche particolari e di bere almeno un litro e otto due litri d'acqua poi in seconda della della del volume di ogni uno di noi acqua tanta acqua lei dice la tengo in mano la telecamera che forse è meglio la tecnologia è fantastica e cosa buona e giusta però le connessioni in italia non sono il massimo della vita ce lo dicono tutti dall'estero ci dicono poi avete delle connessioni sono terribili allora subito credo che dobbiamo entrare nell'argomento perché abbiamo quei minuti a disposizione perché persone simili le giro proprio questa domanda che mangiano allo stesso modo hanno risultati molto diversi sul loro peso corporeo sì diciamo che le necessità nutrizionali di delle persone sono diverse a seconda di caratteristiche diverse nel senso che conta moltissimo l'età parlare con questo strumento in mano è difficile lo poggi lo poggi andava meglio prima ecco perché sennò sembriamo forse è anche è anche meglio da sensazione del parkinson quindi dicevo che si dicevo è l'ol quindi lo dipendono molto dallo stato fisiopatologico del paziente dell'età del sesso dell'educazione della dell'attività fisica che il paziente svolge facciamo un esempio che può essere rende chiaro il concetto se un ragazzo di 30 anni che fa attività fisica è un signore che generalmente lavora seduto al computer per tutta la giornata pur assumendo la stessa quantità calorica lo stesso e la stessa qualità di alimenti è molto verosimile che uno dimagrisce e l'altro ingrassa perché ci sono tantissimi fattori che entrano in gioco quindi varia la composizione corporea dei vari dei due soggetti in questo caso certo evidentemente perché poi l'attività motoria è legatissima un discorso di alimentazione e lo sappiamo le pongono altra domanda perché quando si comincia una dieta ipocalorica inizialmente si hanno buoni risultati mentre col passare delle settimane dei mesi lo sforzo sembra aumentare a fronte di un calo ponderale ridotto l'abbiamo perso il dottor santoro ecco sì l'abbiamo perso sarà stata qualcosa che ci è andata storta di quello che abbiamo mangiato noi sicuramente allora mentre noi poniamo queste domande io volevo ricordare ai nostri amici telespettatori ristabiliamo il collegamento con il dottor santoro che chiaramente voi potete anche porre le domande durante la messa in onda delle nostre repliche non fosse altro perché noi raccogliamo queste domande non facciamo altro che poi girarle agli esperti e di volta in volta abbiamo la possibilità anche di riascoltarle e porgerle in un'altra occasione quindi voi continuate come state facendo a inviare i vostri messaggi sono utilissimi per aiutare un po tutti no quelli che che ci seguono eccolo qua il dottor santore è ritornato proprio per parlare delle delle connessioni insomma allora le ho fatto la dove è riuscito a sentire la domanda dottor santoro perché è arrivata una telefonata ha dovuto staccare e questo purtroppo dipende da questo per questo dobbiamo fare i collegamenti con il pc allora per quanto perché quando si comincia una dieta ipocalorica inizialmente si hanno buoni risultati mentre col passare delle settimane dei mesi lo sforzo sembra aumentare a fronte di un calo ponderale ridotto allora quando si come giustamente diceva lei si instaura una dieta fortemente ipocalorica quindi è una dieta al di sotto del metabolismo basale nostro organismo attiva tutto una serie di sistemi di protezione nel senso che per le prime settimane va tutto bene successivamente ormoni e sistema nervoso cominciano a risparmiare è una forma di difesa dell'organismo abbassando le voci di spesa cioè si orienta più all'utilizzo del del per quanto riguarda il questo tipo di conversazione in questo modo mi scusi ecco si attivano tutta una serie di sistemi che ci aiutano a limitare le spese le spese inutili nel senso che l'organismo tende a preservare fondamentalmente gli organi vitali quindi se vogliamo fare un esempio che è pratico fra l'altro nella dieta fortemente ipocautica prodotta nel tempo per esempio il la durezza delle unghie diminuisce il possono cadere i capelli quindi si possono arrivare anche a situazioni estreme nella realtà di conseguenza di conseguenza sono meccanismi di difesa che ci portano nel tempo a rallentare il nostro il nostro dimagrimento bene passiamo all'altra domanda che per lo più scelte non fosse altro perché sono le domande che si pongono tutti i telespettatori che si ritrovano in una situazione sovrappeso che hanno insomma particolari problematiche come mai molte persone finito una dieta riprendono più peso di quanto ne hanno perso dopo le diete si è un classico effetto io io molto spesso succede questo tipo di ritorno al peso naturale perché quando si si attua un dimagrimento quindi un calo del un calo ponderale ci si abita a mangiare in una in una maniera più equilibrata generalmente è molto più c'è una riduzione calorica piuttosto significativa e quindi ci si abita in un certo senso a mangiare di meno quando si si smette la dieta si si ritorna un po alle vecchie abitudini a mangiare qualitativamente e quantitativamente e in modo graduale gli alimenti che qui si era si erano era si era soliti assumere e quindi nel tempo piano piano comincia questo questo re ingrassamento se vogliamo perché tutto questo nasce perché non c'è una corretta educazione alimentare nella gestione della dell'alimentazione bene passiamo alla prossima così proviamo di accontentare in pochi minuti quanti più telespettatori possibile è possibile impostare un'alimentazione che faccia dimagrire senza usare la bilancia in cucina beh in in teoria sì dobbiamo partire dal fatto che se acquisiamo una buona educazione alimentare ehm siamo capaci di eh scegliere eh qualitativamente gli alimenti corretti ehm questo ci eh mette nella condizione di non dover più ricorrere eh alla bilancia la bilancia in realtà dovrebbe anche essere tolta da casa perché eh si entra poi nella psicosi del del peso giornaliero che a volte eh può essere anche eh deleterio perché ci condiziona ci demotiva molto spesso le variazioni anche di liquidi ci possono fare cambiare il peso durante la scuola da giornata e questo è un eh è un fatto quindi se utilizziamo cibi qualitativamente validi cibi a basso indice glicemici utilizziamo molto poco i carboidrati sicuramente possiamo eh evitare l'uso della bilancia nel 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 pesare gli alimenti e quindi andare meno a poi andarci a andarci a pesare bene una penultima domanda allora quali sono se esistono i cibi che bruciano i grassi i cibi bruciagrassi in realtà cioè il concetto di bruciagrassi non esiste eh almeno per quanto mi riguarda io credo che non esiste il cibo bruciagrassi non perché eh torniamo sempre al concetto di di corretta alimentazione se pratico una buona attività fisica se mangio eh in relazione al mio consumo e se mangio qualitativamente alimenti eh dove non eccedo con i carboidrati eh specialmente carboidrati semplici intendo dire eh zucchero eh miele marmellate eh sicuramente sicuramente tendo a perdere peso e raggiungere un peso ottimale ma in realtà il vero bruciagrassi come alimento è una è una è una farlo e farloco pensarlo bene allora un'ultima domanda eh siamo giusto in tempo è sempre necessario l'uso degli integratori durante una dieta dottor Santoro? L'integrazione di per sé racchiude una parola carenza e devo dire che nel 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 nostro nostro emisfero carenza in realtà nutrizione non ce n'è visto l'abbondanza degli alimenti direi più che altro se i gli integratori sono pericolosi quindi li sconsiglia no allora sono gli eccessi che gli studi le evidenze le evidenze scientifiche per quanto riguarda gli integratori si basano su poche patologie per esempio il ferro è utile da dove ci sia carenza di ferro i folati la vitamina B12 in tutti quei pazienti per esempio i vegani che hanno una riduzione sicuramente importante di questo di questa vitamina eh i probiotici nelle disbiosi per esempio oggi si si sta studiando anche un altro un altro ceppo batterico la chermansia che è una funzione più che altro di ehm di aiuto nei pazienti con sindrome metabolica eh però nel nel come dicevo prima dico gli integratori in eccesso c'è un uso sconsiderato di integratori è un po' la si cerca la giustificazione a un'alimentazione scorretta tanto è che eh sia Giamma ha pubblicato uno studio molto importante del Giamma il Journal of American Medical Association ha pubblicato uno studio dove l'eccesso di vitamina A di vitamina E di beta carotene può può aumentare la eh mortalità leggermente sì ma la può aumentare così anche l'istituto di ricerca sul cancro americano ha pubblicato uno studio che l'eccesso di eh di beta carotene può provocare dei tumori eh dei tumori polmonari contenuto in quale cibi contenuto in quale cibi dottor Sosa contenuto in quale è il bigo carotene come ha detto nelle carote fondamentalmente nelle nei vegetali ma si chiama carotene per di colore di colore rosso ah tutto quello che è colore quindi no no eccesso come integrazione intendo ah ok eccesso come integrazione ovviamente stiamo parlando di integratori ok senta un'ultima domanda se eh decidessimo noi comuni mortali eh quindi non specialisti come lei di fare una buona alimentazione che cosa consiglia quali sono per esempio le quantità noi siamo mediterranei quindi la dieta mediterranea è fatta di tanti carboidrati insomma tutte queste cose qual è un piccolo consiglio che ci può dare insomma per una giusta alimentazione utilizzare le sicuramente gli alimenti di tipo vegetale quindi le verdure la frutta sicuramente i cereali integrali laddove chiaramente non ci sono condizioni che ne ne impediscono l'uso ovviamente in quantità sempre moderate evitare l'uso di zucchero di zuccheri semplici come per esempio il saccarosio che è il normale zucchero da cucina eh piuttosto che il miele in eccesso evitare i dolci evitare pasti molto ricchi di eh alimenti come le carboidrati proteine insieme piuttosto che e dolci insieme evitare gli alcolici e i superalcolici in modo eccessivo il bicchiere di vino va benissimo ma non esagerare non va bene evitare gli amari a fine pasto specialmente alla sera davanti alla televisione bene allora abbiamo raccolto noi la ringraziamo tantissimo ogni consiglio grazie per la lo strumento che non mi ha consentito di parlare non si preoccupi ci saranno altre occasioni sicuramente grazie per il momento dottor santora alla prossima grazie alla prossima allora eh siamo in conclusione di questo spazio che abbiamo dedicato alla medicina alla salute come avete sentito abbiamo parlato di oculistica di proctologia perché abbiamo questo collegamento con il centro salus che ci aiuta anzi vi posso annunciare per la prossima settimana attenzione per due settimane parleremo di ortopedia con la dottoressa Irene scaduto e poi parleremo con il gastroenterologo il dottor Pirrotta dunque altri due argomenti importantissimi eh che ci serviranno per fare servizio pubblico anche questo naturalmente un modo per incontrarsi Roberto Oddo intanto vi ringrazia per essere stati con noi per aver scelto la nostra eh trasmissione in regia sono stati Nino Tarantino e Matteo Volpe grazie a tutti ancora ma buon proseguimento dei programmi di Tele One Grazie a tutti